Fieri di Bologna, University, qua c'è una gran confusione, un sacco di ragazzi che hanno 18 anni e devono iscrivere sull'università, ma ci sono però anche dei ragazzi già laureati che sono venuti qui per avere uno sguardo sul dopo. Lui è il professore Andrea Cammelli, che cura un'iniziativa, come si chiama? Alma Laurea. Alma Laurea l'abbiamo messo in piedi nel 1994, nell'estate di Bologna. Quindi è maggiorenne adesso? Oggi è maggiorenne, bravo. Non solo è maggiorenne, ma addirittura sta facendo tre obiettivi importanti, che sono quelli di verificare l'efficacia degli studi al termine degli studi stessi. Secondo, vedere l'efficacia degli studi sul mercato del lavoro, quindi facciamo le indagini dopo uno, dopo tre, dopo cinque anni, per capire se il laureato in effetti lavora, quanto utilizza le competenze acquisite, quanto guadagna, eccetera, eccetera. E il terzo obiettivo che ci siamo proposti è quello di mettere assieme in una unica banca dati tutti i curricula dei laureati. E questo oggi vuol dire che noi abbiamo un milione e 750 mila curricula, tutti tradotti in inglese, per cui le aziende italiane non solo, ma straniere soprattutto, stanno acquisendo questi importanti elementi per dare una maggiore occupazione. I risultati di fondo che emergono dalle nostre indagini sono che il laureato, nonostante tutto, lavora a 14 punti percentuali in più di quanto non capita al diplomato. Poi è evidente che questo è un valore medio, naturalmente cambia tra facoltà e facoltà. Prima, è vero che a un anno, a tre anni, il tasso di occupazione è decresciuto nel tempo, molto. Ciò nonostante l'ultima indagine che mi hanno presentato a Venezia e a Foscari, di così recentemente, ci dice che a cinque anni dalla laurea il tasso di disoccupazione è del 6%, fra tutti i laureati. E questo mi pare che sia un indicatore importante per dire, studiare fa bene, fa bene al cervello di ciascuno di noi, fa bene, ci dà maggiore sicurezza, maggiore capacità di sopportare anche le difficoltà che stiamo attraversando. E questo naturalmente emerge anche da una condizione molto semplice, che emerge negli studi che fa l'Ocse a livello europeo. Il responsabile dell'Ocse, che si chiama Andreas Schleicher, che è un tedesco, guarda caso, cos'è che ci dice? Ci dice, guarda, che oggi chi si iscrive a un percorso di studi deve fare una scelta perché i sistemi formativi oggi debbano preparare per lavori che non sono stati ancora inventati. Allora il ragazzo che si iscrive oggi all'università deve immaginare che fra quattro anni, più probabilmente fra sei anni, quando uscirà, vai a chiedere a un imprenditore oggi di che cosa ha bisogno fra sette anni. Non lo sa ancora. Una persona, dico, ben formata, capace di life long learning, cioè di apprendere per tutta la vita. Allora, hai capito, il professore ti ha detto che bisogna, dovevi studiare, aveva ragione la tua mamma? Io avevo molto ragione mia mamma e mia nonna, lo diceva anche Guccini, che un laureato vale più di un cantante. Però questo è importante, tutte le aziende sono in grado di andare ad accedere in quella banca dati e quindi anche di assumere eventualmente. Questo è una cosa importantissima, fondamentale. Però, professore, voi non siete un'agenzia di collocamento, siete un'altra cosa, qualcosa di diverso, di più. Assolutamente, dico, tenete conto che negli ultimi dieci anni abbiamo ceduto, non sto ingannando, abbiamo ceduto all'azienda italiana e straniere 3 milioni e mezzo di curriculum. E quando qualche americano ha fatto uno studio pubblicato a Chicago ha messo in evidenza che cosa? Che i risultati di chi è in questa banca dati, in fin dei conti, sono più elevati dal punto di vista occupazionale di chi non c'è. D'altra parte, non dimentico che il premio Nobel per l'economia che è stato dato nel 2010 a Diamond, Pissarides ed altri, ha esattamente studiato questi aspetti. E cioè, c'è una vischiosità del mercato del lavoro che rende difficoltoso l'incontro fra domande e offerta. Una banca dati come questa, che è nata quando è nata negli Stati Uniti, Monster, aiuta naturalmente a superare quelle che sono le difficoltà. Anche all'interno del nostro paese, fra il nord e il sud, voglio dire, ci sono aziende del nord che cercano e che magari non trovano perché in Lombardia tutti i laureati sono impegnati e ci sono, dico, laureati eccezionali che vengono da alcune università del sud che invece non trovano lavoro. Allora, questo favorisce sostanzialmente l'incontro fra domande. Connessione. Cioè, Alma Laurea è un fluidificatore che combatte questo tipo di vischiosità. Però, ascolta, si deduce che praticamente studiare bisogna. Si trova lavoro, si va avanti. Come la mettiamo allora con le politiche che penalizzano l'università e la scuola? Infatti sono veramente, devo dire, molto gravi. Io continuo a dire, continuo a ripetere da tutte le parti che è vero, noi siamo il paese in tutta Europa che sta investendo di meno in termini di PIL di quanto non capita a tutti i paesi europei. Noi stiamo investendo pochissimo. Il risultato finale di questa operazione è che cos'è? Che noi abbiamo purtroppo una percentuale di laureati la più bassa in Europa, noi abbiamo una serie di codirigenti, di azienda che ha spesso e volentieri per il 37% soltanto il titolo di scuola media, dico dell'obbligo. Quindi si fa fatica a far incrociare i due aspetti. Ora, tenete conto di due cose che a me sembrano fondamentali. Oggi all'università si iscrive soltanto il 30% dei 19 anni. Cioè vuol dire che il paese perde un'opportunità di valorizzare quel 70% di giovani che forse non saranno tutti bravissimi, ma certo che sono i giovani purtroppo che escono da famiglie meno favorite. Oggi, pensate, gli iscritti all'università, chi si iscrive all'università viene per l'82% dei casi, da famiglie dove la laurea non è mai entrata, non è né del padre né della madre. Quindi c'è una difficoltà forza ad orientarsi, forte perché in famiglia, a parte l'intelligenza, la furbizia, l'astuzia, non c'è questa capacità di percorso universitario. La scuola media dell'obbligo fa fatica naturalmente a orientarti e il rischio è proprio questo, che l'Italia sta in qualche modo si ripercorrendo quello che avvenne nel 1862, poco dopo l'Unità d'Italia, quando il ministro dell'istruzione di allora, che si chiamava Matteucci, che cosa diceva? Diceva, che cosa scriveva? Se potessimo per dieci anni almeno risparmiare sui fondi investiti nell'università. Ma allora il paese, l'Italia, aveva il 75% degli analfabeti. Oggi le cose sono cambiate, dobbiamo varcare le Alpi, collocarci nel mercato internazionale, anche dal punto di vista della ricerca naturalmente. E questo è un elemento importante, che va fortemente appoggiato. L'Italia spende troppo poco in istruzione. Io continuo a ripetere, se è vero che siamo in un momento di difficoltà, è vero che siamo in un momento di crisi, è vero che siamo in un momento, dico, di carestia, ma il contadino, anche nei momenti, dico, di carestia, taglia su tutto, ma non sulla semina. Avessi conosciuto prima il professor Cammelli, avrei studiato di più. Grazie mille. Grazie mille.